Allora, parliamo di risorse umane. Risorse umane. Che brutta definizione, non trovate? Parliamo di persone, facciamo così. Le persone che lavorano con te, dipendenti, collaboratori, a dotarti di diavolerie tecnologiche che ti aiutino a gestire su scala il rapporto con le persone che lavorano insieme a te. Qualunque sia il metodo, in ogni caso, che tu decida di adottare, una cosa è certa. Persone che lavorano con te, che sono felici, ti fanno vincere. Punto. Nonostante questo, è curioso notare che i due terzi, grosso modo, delle aziende sul pianeta, se ne fregano altamente della felicità dei propri collaboratori. Un po' perché magari non gli interessa, ma un po' molto, a mio parere, perché semplicemente non hanno gli strumenti tecnologici per coordinare persone che magari stanno sparse in tutto il mondo, gestire, monitorare, ottimizzare e are, are, are. Proviamo allora a ricapitolare che cosa rende davvero felice una persona quando lavora insieme a te. Numero uno, poter fare quello che vuole. È chiaro che questo significa per alcune persone non fare assolutamente niente e cuccare il grano. Lasciamoli perdere un attimino, questi qui forse è meglio non averli nel tuo team. Ma per chi lavora con buona volontà, significa che vuole lavorare dove vuole, quando vuole, come vuole. Secondo elemento della felicità è essere un po' come Spider-Man. Avere grandi poteri e avere anche grandi responsabilità. Non essere solamente una pedina di una scacchiera che non ha né arte né parte. E il terzo elemento collegato è quello di sentire di avere un impatto, un senso, deve avere un significato, deve esserci una sfida, deve esserci una vision che io sposo. Ecco allora spiegato perché tutti i grandi colossi della tecnologia, i Google, i Facebook, creano questi Luna Park del lavoro. Dove c'è un ambiente del lavoro da favola rispetto soltanto a vent'anni fa, ma dall'altro lato le persone lavorano H24, sette su sette, con un sorrisone stampato sulla fronte. O quasi. E vi siete mai chiesti come facciano questa realtà? A coordinare delle persone che lavorano così sparse in tutto il mondo, su progetti più diversi, su livelli così complessi. Fanno che sposano tutti ormai le nuove tecnologie della gestione dell'HR cosiddetto. Human resource. E che fanno queste piattaforme? Da un lato seguono il nuovo modo di lavorare. Lavoro in remoto, lavoro da mobile. Dall'altro lato danno indietro i dati all'azienda, dei dati in tempo reale su come stanno andando queste persone. Vediamo un pochino chi non sta facendo una mazza. Ma non solo, capire chi sono magari i talenti nella tua azienda, capire quali necessità ci sono in un certo settore, in un altro. L'altra onda tecnologica che sta prendendo il settore delle risorse umane è quella della semplificazione. Non è possibile che ci siano miliardi di sistemi, che non si parlano tra di loro, la mano destra non sa che cosa faccia, la mano sinistra, destra, sinistra, non so più neanch'io. Altri due aspetti fondamentali. Un HR che funziona è un HR sempre più automatizzato, con il sales service. Se voglio tenermi in contatto col mio capo, posso avere un canale digitale per fargli sapere che cosa sto combinando. Così quella volta che lo incontro non lo devo aggiornare su che cosa sto facendo. Ma possiamo parlare di temi più alti. Possiamo parlare magari anche della mia carriera, di come sto, un minimo di rapporto personale, che non fa male. E l'ultimo tema è la cosiddetta user experience. Se hai tante persone sparse in giro, quando gli dai l'aggeggino sul cellulare, chiunque che sia bianco, giallo, nero, azzurro, alto, basso, deve essere in grado di usare senza manuale la tua applicazione, essere subito integrato in quello, insomma tutte le cose solite che si dicono, nel gergo business. Le aziende che vinceranno, e che avranno le persone più soddisfatte a lavorare per loro, più felici, non saranno quelle che tireranno la monetina per capire se un collaboratore, un dipendente è felice, è soddisfatto oppure no. Ma saranno quelle che quella parte l'hanno superata grazie alla tecnologia. E sposteranno la conversazione dal che cosa hai fatto a che cosa è importante fare, a cosa è importante per te. Le risorse umane del futuro, pensateci, dovranno sempre essere meno risorse, meno processi, transazioni, e sempre più umane.